sta lottando tra la vita e la morte il bimbo di 9 anni coinvolto nel terribile incidente di ieri sera sull'acqua 14 all'altezza di bologna il bimbo era su un camper che è stato travolto da un tire il pauroso incidente ha causato la morte della nonna del bimbo palmira pizzanti di 63 anni mentre altre tre persone sono rimaste ferite il padre del piccolo la sorella maggiore e l'autista del tire il bambino è stato ricoverato ieri sera in prognosi riservata all'ospedale maggiore di bologna trasferito nello stesso ospedale anche il guidatore del camion che non è in gravi condizioni secondo una prima ricostruzione alla guida del camper c'era il nonno che si era fermato perché aveva una gomma bucata dopo aver accostato all'improvviso il camper è stato investito tutta velocità dal camion il nonno accorgendosi dell'arrivo del mezzo pesante riuscito a salvarsi evitando di venire travolto quando era intento a controllare la gomma bucata